buona giornata a manci da massimo fughetti oggi sabato 31 dicembre 2022 ben ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV oggi abbiamo una grande novità abbiamo una grande novità perché a fare gli auguri di buon anno oggi saremo in due iniziamo subito la mattinata saremo uno dei primi a fare gli auguri di buon anno perché questo è l'ultimo anno dell'anno e questa sera si festeggia nella notte di San Silvestro abbiamo un ospite in studio lo salutiamo subito è il vice sindaco di Fano Cristian Fanesi buongiorno assessore buongiorno buongiorno a lei abbiamo invitata così a fare gli auguri a tutta la città a nome dell'amministrazione comunale quindi abbiamo passato un anno difficile speriamo che il 2023 sia migliore è vero? speriamo davvero perché questo è stato un anno come lei diceva veramente difficile per cui il 2023 insomma ci aspettiamo grandi cose dal 2023 come amministrazione ma anche come cittadini per cui speriamo davvero che possa iniziare sotto i migliori auspici e vediamo l'almanacco del giorno vediamo che oggi si festeggia San Silvestro beh è un santo molto noto perché la notte dell'ultimo dell'anno è proprio la notte di San Silvestro San Silvestro Papa visse nel quarto secolo a Roma quando la cristianità usciva appena dalle catacombe costruì pensate otto basiliche combatté le prime eresie visse poveramente per avere di che dotare le chiese ed aprire poi anche ricoveri per i più diseredati per i più poveri quindi un santo dei primordi della chiesa e vediamo anche le previsioni del tempo ecco la grafica che adesso appare vediamo che il tempo si mantiene un po' incerto nubi sparse e alternate schiarite per l'intera giornata con formazioni nebbiose in serata i venti saranno al mattino e al pomeriggio deboli da nord nord est il mare è poco mosso le temperature si aggirano tra gli 8 e i 12 gradi ma in realtà ieri addirittura le temperature erano molto superiori si sono sfiorati i 18 gradi e vediamo subito il giornale il Corriere Adriatico che evidenzia con questa temperatura anomala per la stagione vediamo qui la fotonotizia eccezionale i 18 gradi a fine dicembre alcune persone ne hanno approfittato per un bagno in mare a Lido quindi ci sono anche i temerari per quanto riguarda le temperature e apriamo la nostra rassegna stampa con il resto del Carlino vediamo l'articolo di apertura sulla pagina di Fano la mannaia della ciclovia sugli espropriati abbatteranno muretti, siepe e ben otto pini si moltiplicano le proteste tra i residenti che stanno scoprendo che i loro terreni insistono sul tracciato della pista del Metauro Vice sindaco, la pista del Metauro ha suscitato delle polemiche in realtà quando si fa una nuova infrastruttura ci sono sempre delle proteste per coloro che poi vedono invaso la propria proprietà da questa nuova realizzazione c'è una diversità di giudizi tra chi la vuole vicino alla ferrovia e chi la vuole invece un po' lontano la giunta regionale ha scelto questa seconda soluzione quella di non metterla vicino alla ferrovia cosa pensa l'amministrazione comunale di Fano? L'amministrazione comunale ovviamente dal punto di vista amministrativo e istituzionale collabora con la regione per fare questo investimento dal punto di vista personale posso dire che la scelta che è stata fatta secondo me è una scelta sbagliata è una scelta che va a modificare quello che era il progetto iniziale di passare proprio a fianco alla ferrovia per avere un percorso rettilineo con la possibilità di frequentazione anche più turistica rispetto all'attuale di questo progetto che stiamo vedendo in questi giorni per cui le polemiche si stanno muovendo alcune di queste sono anche giuste probabilmente ci sono degli errori e quindi la fase anche delle osservazioni spero potrà indurre la regione anche a cambiare leggermente il percorso renderlo più digeribile da questa popolazione l'unica cosa che salverei è il ponte che collegherà Vallato con Sant'Orso che è un ponte importante che appunto collegherà il parco urbano Lucio Polverari con l'abitato di Sant'Orso e che comunque scavalca Superstrade, Via Papiria e Canal Albani che è un tema comunque anche dal punto di vista della viabilità appunto dolce molto importante perché si collega due parti della città tagliate a metà da queste infrastrutture ma collega anche e rende possibile un attraversamento più sicuro di questa zona che comunque anche sul tracciato dell'esistente ferrovia sarebbe stato un problema perché avremmo dovuto mettere dei semafori per attraversare sia Canal Albani sia Via Papiria e quindi salverei solo questo per il resto devo dire che è discutibile il percorso che la regione vuole portare avanti e soprattutto nel passaggio tra Sant'Orso e Rosciano dove appunto ci sono credo i più alti espropri e dove ci sono le proteste più evidenti Ebbè questo è un problema che poi si perfezionerà durante il prossimo anno L'apertura invece sul Corriere Adriatico oggi è dedicata un po' a uno sport uno sport sui generis perché torna il volley della Befana per un scopo di beneficenza si fornirà aiuto alla Fondazione Gio una fondazione che sulle pendici di Montegiove aiuta molte molte persone l'incasso del Palace Aliende il 3 gennaio all'ente per l'autonomia dei disabili Ebbene questo è un torneo che si svolge ormai da diversi anni all'inizio dell'anno ci sono quattro squadre in lizza abbiamo la squadra dell'Avis, i donatori di sangue che insieme agli insegnanti della scuola primaria contrasteranno altre tre squadre sono quelle dei giornalisti, dei politici e dei parroci quella dei parroci è proprio la squadra da battere perché è una che ha avuto un palmares più fornito sono i più vincenti per dirla come la sta ma dal volley della Befana passiamo a una notizia di sport perché sui giornali vediamo la Vis e il Fano Calcio che insomma cercano di irrobustire il proprio organico l'ex vis Ciaschini a casa vi racconto i campioni dice il resto del Carlino Pesaro è stata la società che mi ha lanciato e resta sempre nel mio cuore dice Ciaschini invece per quanto riguarda la Serie D Mosconi promuove il Fano la squadra mi segue dobbiamo recuperare tutti e segnare più gol sì insomma le due squadre insomma latitano negli ultimi tempi i risultati non sono stati quelli che ci aspettavamo tutti Vice sindaco lo stadio Mancini questo stadio che è un po' una sanguisuga di soldi perché veramente ancora non si riesce mai a porlo nelle condizioni ideali a che punto è? Beh allora lo stadio Mancini è al punto che è evidente a tutti abbiamo dei problemi a tirar giù le torri faro perché gli operatori della telefonia mobile tardano e io credo anche colpevolmente a spostare le antenne che hanno installato nel tempo sin dal 2000 su quelle torri quelle torri devono venire giù e quindi loro devono spostare le antenne in più abbiamo concordato con il Fano Calcio un investimento prioritario per loro e credo anche per la città che è quello di riqualificare il campo cosiddetto da tutti i fanesi degli ex militari che si trova lungo la statale in zona diciamo Ponte Metauro quindi quel campo lì sarà riqualificato e l'amministrazione comunale ha dato priorità darà priorità a questo intervento cofinanziandolo in maniera tale che si possa creare un polo importante un centro sportivo nuovo completamente nuovo per i giovani che come dire si sono iscritti e seguiranno l'Accademia Granata che è un po' il vivaio del Fano Calcio per cui crediamo che da lì possano arrivare anche delle soddisfazioni per il futuro non entro nelle questioni societarie però credo che questo è stato un intervento che ci hanno chiesto in via prioritaria e questo è l'intervento che l'amministrazione comunale fanese intende cofinanziare insieme appunto all'Accademia Granata L'articolo di apertura della seconda pagina del Corriere Adriatico si riferisce alla conferenza stampa che ieri il partito Fratelli d'Italia ha tenuto al Lido di Fano un Lido in un'atmosfera primaverile dobbiamo dire perché veramente era una temperatura gradevole giunta lenta e indecisa certi rioni abbandonati questo è il titolo che appare per sintetizzare un po' tutto il discorso che hanno fatto i dirigenti di Fratelli d'Italia l'attacco di Fratelli d'Italia siamo il primo partito alla cura urbana gli incassi della sosta questo è una delle richieste che ha fatto l'opposizione ebbene Fratelli d'Italia già si sente al governo della città e ieri ha parlato con l'autorità che gli proviene da il gradimento che lo stesso partito riesce a trovare tra l'elettorato Fratelli d'Italia ha voluto svolgere un consuntivo della sua azione politica e ha messo in evidenza il collegamento che c'è tra il partito di Fano la regione Marche che è governata da un esponente di Fratelli d'Italia e al governo ovviamente dove c'è Giorgia Meloni Vice sindaco quanto contano i rapporti istituzionali tra un comune e i livelli superiori? Contano molto? Contano molto non sono decisivi questa città è sempre un po' strana quando al governo nazionale e regionale c'era il partito democratico a Fano governava la destra ora abbiamo una situazione un po' diversa per cui contano ma le istituzioni sempre trovano una forma di collaborazione tra di loro per cui insomma posso dire che contano ma non sono decisive per cambiare il voto di una città Quindi il comune conserva sempre una sua autonomia amministrativa voglio dire che gli viene dal consenso del popolo in questo caso come nel caso appunto dell'amministrazione Ceri larga e abbondante insomma Perfetto ovviamente Fratelli d'Italia non poteva non toccare l'argomento della variante di Gimarra che è l'argomento un po' che ha imperato in questo scorcio dell'anno Variante di Gimarra secondo Fratelli d'Italia non basteranno o forse ancora non c'è l'ufficialità della proroga dei sei mesi secondo Fratelli d'Italia per consentire al progetto di andare avanti in regione sembra che invece questa ufficialità ci sia insomma la cosa è controversa secondo lei come stanno le cose ha una certezza per quanto riguarda il proseguimento di questo progetto l'amministrazione comunale di Fanno dà diciamo in forza della legge che è stata approvata nel marzo maggio 2022 la proroga di sei mesi la dà per certa perché è stabilita dalla legge l'intervento della strada di Gimarra è superiore ai 25 milioni quindi è per legge questa proroga non crediamo di dover attendere altro se non come dire la pubblicazione sui siti del Ministero di tale proroga e per quanto riguarda invece i tempi e altre discussioni vedo che siamo passati dal aver perso 20 milioni a sostenere che forse i 25 non bastano è già un passo in avanti rispetto al dibattito consumato un mesetto fa e dunque benissimo ovviamente saranno i tecnici e solo i tecnici potranno dire se i soldi saranno sufficienti per poter fare questa strada al momento quelli interpellati dal Comune di Fano ci hanno detto che costerà 25 milioni circa di euro per cui siamo qua a dover solo aspettare che i tecnici mettono in fila le carte per poter arrivare a questo importante impegno che è decisivo anche per la città di Fano Comunque le critiche che hanno avanzato e i componenti di Fratelli d'Italia ovviamente hanno spaziato su tutti i settori dell'amministrazione comunale da quelli della viabilità a quelli dei quartieri a quelle delle infrastrutture insomma ci sono diversi problemi che sono emersi emersi dalla conferenza stampa stessa per esempio si parla anche di indebitamento del Comune questa possibilità di accedere a un mutuo poi dovrà essere caricata sulla giunta che seguirà e quindi Fratelli d'Italia dato che pensano di vincere le elezioni già temono di dover affrontare un debito considerevole per il Comune la situazione finanziaria del Comune e al momento è Florida non mi sembra che ci siano problemi però un indebitamento provocherà una limitazione poi degli investimenti al momento il Comune di Fano è il Comune probabilmente in Italia non posso ovviamente dirlo con termini assoluti meno indebitato i mutui che stiamo pagando sono frutto di decisioni passate che tranquillamente riusciamo a sostenere scadranno tra qualche anno ma tra qualche anno intendo dire 3-4 anni per cui anche secondo il parere espresso dalla ragioneria organo tecnico del Comune di Fano è imparziale rispetto a questo vista anche la situazione nazionale il Comune di Fano può sostenere tranquillamente un mutuo di 5 milioni di euro tenuto conto che l'amministrazione comunale di Fano finora in questi anni in cui è stata governata al centro-sinistra ha sempre riportato un avanzo di amministrazione di circa 2 milioni di euro all'anno cioè soldi che non riusciamo a spendere e che comunque sia in generale tutte le amministrazioni non riescono a spendere quindi portano in avanzo di amministrazione quindi io credo che il tema dell'indebitamento ulteriore di 5 milioni di euro visto che stanno scadendo i mutui visto che abbiamo un avanzo di amministrazione abbastanza importante sia un tema che serve solo per la bagarre politica Sì concludiamo il commento della conferenza stampa di Fratelli d'Italia con una dichiarazione della segretaria Loretta Manocchi la quale ha detto siamo il primo partito di Fano abbiamo aumentato il numero dei tesserati che ora montano 150 unità e sono in continuo crescendo specialmente tra i giovani tra breve inaugureremo anche una nuova sede in via a Lavolini come vede la situazione politica in vista delle elezioni del 2024 Beh nulla si può dire l'esperienza ci dice che a volte il voto nazionale non corrisponde a un sentimento locale soprattutto quando nelle amministrazioni pubbliche amministrative si mettono in gara anche liste civiche per cui ecco mi sembra decisamente troppo presto per fare delle previsioni di questo tipo comunque buona fortuna anche a Fratelli d'Italia credo che la prossima sfida quella del 2024 sarà una sfida molto molto importante per la città da una parte ma anche molto come dire indecisa al momento insomma molto molto una partita che si può giocare vediamo un articolo di fondo sul Corriere Adriatico Gimarra la proroga di sei mesi non basterà è la Lega che risponde ad Enrico Nicolelli che l'altro giorno era apparso sui giornali con una intervista parlando appunto della variante di Gimarra sei mesi a parte il fatto che c'è in balo anche una proroga di un anno che ancora però deve essere ben ufficializzata oppure decisa però sei mesi eventualmente basteranno fanesi il tema delle proroga è un tema molto delicato che riguarda tutte le regioni secondo uno studio fatto tempo fa dalla Camera dei Deputati erano 20 miliardi non 20 milioni 20 miliardi a livello nazionale i soldi che erano come dire in sospeso rispetto a questo fondo che è il fondo FSC sono soldi europei per cui il tema è un tema che riguarda tutto il paese e non è un caso che le regioni tutte insieme abbiano chiesto al governo una proroga di almeno un anno per poter spendere questi soldi che in buona parte sono stati già parzialmente impegnati come il comune di Fano immagino anche tutti gli altri tra l'altro in questi soldi in questo fondo FSC ricadono anche i soldi della pista ciclabile del Metauro che abbiamo menzionato prima perché sono finanziate quella pista ciclabile è finanziata con i fondi FSC e mentre la strada di Gimarra ha avuto una proroga di legge di sei mesi in quanto con un importo superiore a 25 milioni non credo che questo possa rientrare nelle fattispecie della pista ciclabile del Metauro quindi un tema molto delicato e nazionale per quanto riguarda i tempi sei mesi ovviamente nella pubblica amministrazione nulla si può dire ma sempre i tecnici si dicono che sarà molto difficile non si potrà perdere un tempo un giorno neppure un giorno rispetto ai sei mesi ma è possibile perché dal punto di vista come dire normativo dei tempi e dei lavori che ci siamo dati i sei mesi possono essere sufficienti a poter portare a casa il contratto con una ditta che ovviamente farà il progetto esecutivo e i lavori torniamo al resto del Carlino vediamo un articolo che riguarda un po' l'immagine estetica della città la fortuna si rifà il make up lo vediamo qua ok all'intervento sulla fontana la fontana della fortuna è una realizzazione monumentale che proviene dal rinascimento è stato provato il progetto di fattibilità per un importo di 170 mila euro l'immagine dei marmi al momento è piuttosto degradata perché i marmi sono rotti in più punti e poi l'apparato idrico non funziona a dovere il look della città si parla spesso anche del piano particolarizzato del centro storico la città in questo momento la città di Fano il centro storico di Fano sta per avere due progetti molto molto qualificanti che sono quelli del Sant'Arcangelo e quello della biblioteca federiciana due architetti di fama nazionale che dovrebbero dare il lustro d'immagine alla città di Fano è tutta spianata la strada per questi progetti Assessore mi permetterei di aggiungere ovviamente per completare quello che lei diceva anche Piazza Marcolini l'ex Agip che è appena fuori dal centro storico che sono due progetti molto importanti l'ITI il progetto ITI Italo Rota è stato consulente del comune di Fano per il progetto diciamo la fabbrica del carnevale è un progetto che potrà riprendere finalmente mi viene da dire finalmente dopo un anno circa perso dietro giudici amministrativi e ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato riprenderanno i lavori a breve questa è stata la notizia che abbiamo dato anche in conferenza stampa di fine anno proprio ieri e dunque su questo ovviamente si andrà avanti per quanto riguarda invece il progetto anche questo molto ambizioso del rifacimento della biblioteca federiciana al momento abbiamo ottenuto due milioni e mezzo di euro che sono soldi importanti che ci vengono dall'Europa dal PNRR e quindi sono soldi che dovremmo spendere a breve e l'amministrazione comunale di Fano deve trovare il modo per aggiungere a questi fondi che comunque sono importanti altri soldi per cui stiamo discutendo discuteremo a breve anche in giunta affronteremo il problema in maniera tale che insomma si possa arrivare a concretizzare entrambi i progetti di due architetti molto importanti per il nostro paese Cucinella da una parte Italo-Rota dall'altra anche se Italo-Rota ha dato solo una consulenza e credo che questo sia un passo in avanti abbiamo già detto che il piano particolare del centro storico non prevede opere di architettura contemporanea come invece in questo caso abbiamo fatto per cui siamo intervenuti anche a variare questo piano regolatore io credo che per mano pubblica in alcuni interventi molto qualificanti in alcuni immobili questo si possa fare credo potrà dare se quando realizzati che lustro la nostra città perché soprattutto la biblioteca federiciana è un diciamo un affaccio sul mare e viceversa si vedrà dal mare da un bello raggio intorno alla città di Fano un importante come dire contributo di arte di architettura contemporanea e credo che questo vada a vantaggio anche nella nostra città per migliorarne e abbellirne il volto diciamo esterno bene bene adesso passiamo un po' anche agli altri comuni passiamo a terre roveresche dove vediamo che il sindaco Antonio Sebastianelli annuncia che i servizi del comune saranno fatti tutti in autogestione e si forma un gruppo una cooperativa di comunità locale a cui fidare rifiuti refezione e altro rifiuti una nota un po' dolente per quanto riguarda le prospettive di un progetto che è in atto da tanto tempo quello del digestore assessore digestore che l'amministrazione comunale sembra che si lasci perdere e da cui un po' è legata anche la sorte di ASET cosa ne pensa a questo proposito? Guardi devo dire che non solo aggiornato sugli ultimi sviluppi ce ne darà aggiornamenti sicuramente l'assessore all'ambiente e il sindaco al momento so che è tutto fermo e le decisioni ancora non sono state prese va bene a Urbino ovviamente l'università è sempre in prima linea pioggia di milioni per gli studi umanistici importante risultato per il dipartimento dell'Atene Urbinate ha avuto diversi soldi sono 6 milioni che verranno utilizzati per la ricerca la soddisfazione del direttore e rettore Berta Martini che fa parte appunto del dipartimento studi umanistici di UniUrb e poi ovviamente non si può non parlare dell'economia in vista della chiusura dell'anno un'economia che ha sofferto su tutto il territorio per quanto riguarda tutte le cose che si sono abbattute dal covid all'aumento delle materie prime all'aumento delle bollette insomma i commercianti sono trovati in difficoltà però il Natale ha dato una ha dato una ripresa alle vendite acquisti natalizi segnali positivi dai commercianti del centro Urbinati studenti e turisti hanno premiato i negozi cittadini il rapporto di fiducia gioca sempre un ruolo fondamentale il rapporto di vicinato soprattutto a parte le grandi catene che attirano anche clienti da altri territori Frana a Pianello si riaprirà la strada fermano i lavori per rimediare all'isolamento creatosi a metà dicembre dal 2 gennaio ci sarà una corsia libera finalmente questa frana che ha invaso la careggiata della strada a Pianello verrà rimossa questo assessore ci dà la possibilità di fare un breve brevissimo intervento sulla situazione del territorio sul dissesto del territorio anche noi abbiamo avuto dei problemi a Carignano per esempio poi magari anche a sud del fiume Metauro dove i torrenti rio Crinaccio eccetera hanno fatto dei capricci chiamiamoli così ma sono veramente dei problemi da risolvere in modo particolare l'Arzilla c'è attenzione da parte dell'amministrazione comunale per placare i timori dei residenti di questo torrente sì c'è un'attenzione diciamo a tre corsi d'acqua importanti lei l'ha citato il rio Crenaccio siamo intervenuti fra l'altro recentemente in consiglio comunale il comune e la provincia di Pesorubino sono stati come dire chiamati dal giudice a pagare dei danni in seguito alle esondazioni del 2014 quindi danni sviluppatisi o comunque abusi sviluppatisi prima del 2014 siamo stati chiamati a pagare questi danni e quindi l'attenzione al rio Crenaccio è stata evidenziata anche dai lavori che abbiamo svolto per liberare il passaggio sotto la ferrovia sotto il ponte l'arcata del ponte ferroviario e lì altri lavori io credo siano importanti da fare anche ad opera di ANAS che è l'ente che gestisce la strada statale per quanto riguarda ovviamente il fiume Metauro attenzionato ovviamente come più importante corso d'acqua della regione Marche non solo del comune di Fanno ma proprio della regione Marche e il torrente Arzilla per cui siamo intervenuti con una pulizia ordinaria della foce la regione sta sistemando gli argini proprio nei pressi del passaggio ferroviario quindi proprio vicino allo sbocco sul mare e lì bisogna fare un lavoro e non può farlo soltanto il comune di Fanno devono fare tutti i comuni insieme coordinati da un'autorità di bacino che in questo caso è la regione Marche in maniera tale che si possa mettere mano non tanto alla sicurezza degli argini che mi sembrano abbastanza sicuri sviluppati in questi anni ma una pulizia completa approfondita di tutte diciamo le piante che sono nate nell'alvio del fiume che in caso di esondazione potrebbero accumulandosi nei rispetti ai ponti creare danni anche importanti non solo alla città di Fano ma anche alle altre fazioni che prima di arrivare a Fano attraversa questo torrente quindi l'appello che il comune ha sempre fatto è quello di collaborare insieme alla regione che ha questa possibilità per poter arrivare a una sicurezza maggiore anche nei nostri concittadini Assessore siamo in conclusione abbiamo terminato la nostra rassegna stampa il tempo a disposizione quindi rinnoviamo gli auguri a tutta la città lo facciamo insieme augurando un buon anno 2023 speriamo che sia veramente migliore del 2022 che ci lasciamo alle spalle grazie per il suo intervento e grazie a voi per il vostro ascolto a risentirci grazie a tutti